e' il принимo il primo un donino in quando in quando stampa mi fonde la notizia della creazione di questo nuovo gruppo musicale naturalmente poi noi oh qua non ci può parlare naturalmente ti faremo sapere naturalmente ti faremo sapere la tournée che facciamo Vigna Caruso, poi Giovanni D'Anello Costanzo D'Amaro Massimo Anciolino che stava vicino alla stazione questa è la tournée che aveva fatto non è che dobbiamo andare oltre si comincia sempre così da giovani poi dopo